Desidero infatti comunicare al Sindaco, al Presidente e a tutto Consiglio Comunale, la scelta di non far parte del gruppo consigliare che fa riferimento alla lista in cui sono stata eletta, ma di rimanere indipendente andando a costituire un eventuale gruppo misto. Scoprire dopo quattro anni che mi è stato rubato il posto in Consiglio Comunale mi ha profondamente delusa, amareggiata e confusa. Sicuramente c'è un errore di chi compila le liste nei partiti, anche nel centro-sinistra, anche nel PD, anche nella lista del candidato sindaco di Messina, del centro-sinistra. Perché è chiaro che si tratta di una lista civica, ma guardarsi intorno serve proprio per evitare delle sorprese successivamente. Le dichiarazioni della consigliera di cui stiamo parlando, della consigliera Bonocore, quelle che ho sentito alle organiche di stampa subito dopo l'elezione e subito dopo il passaggio, sono abbastanza chiare in questo senso. C'era la ricerca spasmodica di questo seggio a tutti i costi e a qualunque costo. Ecco, il messaggio che stiamo mandando, non a me che sono il primo degli eletti, ma non è questo il punto, ma il messaggio che noi stiamo mandando alla città, ai ragazzi che si avvicinano e che fanno politica attivamente, è quello di un degrado morale, di uno sprofondo della moralità pubblica. Come dire, la politica soltanto come mero interesse personale del consigliere del tempo. Qua invece dobbiamo fare un'analisi profonda di chi candidiamo in politica e di chi si candida in politica. Questa città è ridotta così perché al primo soffio di vento ci sono consiglieri che passano senza alcun tipo di ragionamento politico da destra a sinistra. E la città la vede tutta, insomma, questa storiella, no? Metabolizzata la sconfitta, nonostante la grande amarezza non nascosta, si lavora guardando al futuro. Intanto ci saranno i ricorsi, perché a quanto pare non è soltanto uno. Eh beh, sì, sì, stiamo preparando sicuramente i ricorsi per più profili. Quindi, intanto il ricorso sull'assegnazione del seggio, che peraltro, come dire, è stato anche oggetto di discussione da parte, diciamo, una ragione, una scusa politica della collega Buonocore per passare dalla nostra lista, dalla lista di Domenico Sindaco al gruppo misto, insomma, a quello dove sarà poi il suo profilo, il suo futuro. Nel 2018 il magistrato della corte del seggio centrale assegnò il seggio del miglior perdente, il candidato Bramanti, esattamente come noi stiamo scrivendo nel nostro ricorso. Cioè quello che lo assegnava alla sua coalizione di lista, al centro-destra. Quindi quando la Buonocore va a dire che il seggio era stato rubato dalla collega russo, dice due volte una sciocchezza. Nel 2018 il magistrato ha operato seguendo la legge e secondo luogo, se aveva dei problemi nel 2018 faceva un ricorso nel 2018. Io che ho problemi, e ritengo che quest'anno il seggio centrale abbia fatto un errore gravissimo nell'assegnare al centro-sinistra il seggio di Croce, chiaramente farò un ricorso. Lo faremo come Partito Democratico e non come me, perché è il partito che è stato depredato di un seggio che ritocca di diritto. E poi c'è un altro importante ricorso, che è sulla costituzionalità della legge elettorale siciliana, che è sotto gli occhi di tutti una vergogna che grida vendetta al cielo, un guazzabuglio di regole incomprensibili che devono essere soltanto spazza di via della corte costituzionale. E ci stiamo intestando anche questo ricorso, certo.